Sono state le segnalazioni di alcuni commercianti a novembre del 2017 a scoprire il velo sulle continue vessazioni e richieste di denaro che gli esercenti erano costretti a sopportare a Pescara. Dopo mesi di indagini i finanzieri della compagnia pescarese hanno eseguito ieri cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale Adriatico nei confronti di una banda del pescarese composta da un'intera famiglia quella dei Rossoni e da Giovanni Di Blasio. Per gli arrestati a vario titolo i reati contestati sono estorsione, furto aggravato, spaccio di sostanza stupefacente, lesioni fisiche in continuazione in concorso. L'operazione è stata denominata No Fear perché fa riferimento ai soggetti che hanno subito l'estorsione che inizialmente non avevano il coraggio di denunciarli per iscritto e poi diciamo vedendo l'attività nostra, vedendo che comunque ci eravamo interessati hanno avuto il coraggio di denunciarli e di consentirci di svolgere una serie di attività che poi hanno permesso quindi di arrestare queste cinque persone. I finanzieri nel corso delle indagini si sono avvalsi anche delle intercettazioni telefoniche che hanno consentito di ricostruire anche altre situazioni di estorsione. In un caso a rifiuto di elargire l'ennesima d'azione di denaro si è passati dalle minacce all'aggressione fisica davanti ai clienti del locale. In un altro caso un debito di droga si è trasformato in usura con richieste di denaro a canenza mensile che hanno raggiunto i 30 mila euro, richieste che non si sono fermate nemmeno davanti alla denuncia della vittima. Però queste condotte lesive nei confronti di queste persone partono già dal 2013 con una serie di situazioni tra gli estorsori e chi subiva questi reati. è una cosa che andava avanti da un po' di tempo e soprattutto queste persone comunque hanno dei presenti specifici nei reati contro il patrimonio.